Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo con la lettura del commento dei documenti diplomatici italiani e siamo arrivati al 7 luglio 1944. Nelle puntate precedenti possiamo dire che abbiamo avuto modo di analizzare la situazione piuttosto complessa, articolata e contraddittoria delle relazioni diplomatiche italiane, a maggior ragione dopo l'insediamento del governo Bonomi, con una incapacità da parte del governo ancora Salerno di incidere su un miglioramento della condizione italiana. La cobelligeranza sembra una sorta di gabbia a tempo indeterminato rispetto a una via di uscita in cui si può meglio concludere, meglio negoziare una futura posizione all'interno della compagine anti-tedesca. E questo ovviamente comporta una serie di delusioni che si sono protratte non solo nel periodo del governo Badoglio, ma si vanno a confermare anche in questo periodo in cui vige una realtà governativa, quantomeno più democratica, più liberale rispetto al tempo precedente. Quindi anche la stessa compagine di governo che si sente responsabile, ma si sente anche portatrice di una volontà popolare, deve in qualche modo render conto a qualcuno. Mentre prima il governo Badoglio poteva ancora essere considerabile autoreferenziale per volontà di Dio, per grazia di Dio, ancora non volontà della nazione. Adesso la volontà della nazione c'è e questo ovviamente si fa sentire. Quindi ecco come possano essere dei certi mal di pancia da parte del... molto più decisi sotto la natura meramente politica da parte di Bonomi. Detto questo, allora iniziamo con una lettera personale del vicepresidente della commissione alleata di controllo Stone al sottosegretario agli esteri Visconti Venosta, datata 7 luglio da Napoli. La presente in risposta alla sua lettera del 27 giugno in cui chiedeva che il suo governo, per quanto possibile fosse informato della visita in Italia, di illustri personalità di rilievo internazionale. Nei giorni passati abbiamo avuto modo di vedere come lo stesso governo italiano si trovava in profonda difficoltà, in profondo imbarazzo, perché sul territorio italiano venivano in visita una serie di personaggi, tra cui De Gaulle, senza sapere della loro presenza. e quindi da parte, diciamo, in senso ufficiale si voleva in qualche modo pretendere il rispetto di un'etichetta, di un cerimoniale, di un qualcosa che potesse rappresentare un primordio di essere padroni in casa propria. Dall'altro ovviamente conoscere queste presenze, queste visite avrebbe permesso, molto più di quello che già non si faceva, di intrattenere dei rapporti paralleli, ovviamente che gli angloamericani escludevano, volevano escludere. Il fatto che la presenza del re Pietro di Jugoslavia, del generale De Gaulle, del generale Marshall, eccetera, non sia stata comunicata al vostro governo non era, vi assicuro, l'intenzione deliberata della contropartita alleata, della commissione alleata di controllo. I fatti sono che in tempo di guerra ragioni di sicurezza vietano di discutere o menzionare i movimenti di altri ufficiali e funzionari. Vabbè, si salvano in calcio d'angolo. Nei casi alecitati la commissione stessa non è stata informata delle visite imminenti o dell'effettiva presenza in Italia delle persone nominate. In realtà preferiamo non essere informati in modo che, in caso di fuga di notizie, non si possano muovere critiche alla commissione e mi sembra che lo stesso suo governo potrebbe essere giudicato da una posizione simile. Spero che, no, può essere guidato, scusate, spero che capirete questa spiegazione e che vi sentiate certi che non c'era alcuna offesa o affronto in alcun modo. E questo è un po' un tentativo di metterci una pezza sopra su questa situazione. Passiamo a una comunicazione segreta dall'ambasciatore a Madrid Paolucci di Calvoli al presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri ad Interi Bonomi, datato 7 luglio sempre da Madrid. Con lettera del 16 aprile ultimo scorso, che non era stata pubblicata nella raccolta di documenti ufficiali, avevo fatto il punto sulla posizione della Spagna nel campo internazionale, con particolare riferimento al nostro paese dopo il riallacciamento delle relazioni con l'URSS. Ecco, questo è un tema molto delicato. Perché? Perché la Spagna, che sicuramente aveva ancora un cordone ombelicale con il fascismo, non fosse altro appunto perché il capo politico Franco si richiamava e aveva preso il potere grazie ovviamente alle due dittature di destra italiana e tedesca, ma ovviamente come sappiamo non aveva accettato nessun tipo di lusinga di Berlino o di Roma per partecipare attivamente contro gli alleati. Nonostante ciò, la politica di Franco di un piede in due scarpe, cercando di non inimicarsi troppo i tedeschi, ma allo stesso tempo mantenendo, cioè non rompendo e continuando anzi a collaborare ufficiosamente con i governi alleati, comportava un certo interesse anche da parte dell'Italia che, trovandosi anch'esse in una nazione piuttosto particolare, poteva avvantaggiarsi di questo. Soprattutto perché? Perché esistevano in Spagna interessi italiani, sia di natura finanziaria, sia di natura della presenza di navi italiane, che ovviamente l'Italia cercava in qualche modo di recuperare o di farsi pagare l'affitto. Detto questo, però era entrato, come sappiamo, nelle settimane precedenti il problema, tra virgolette, che l'Italia aveva riallacciato con l'Unione Sovietica, che per la Spagna era il fumo negli occhi, nel senso che un'Italia post-fascista, un'Italia ancora legata a comunque un sistema conservatore della politica, la monarchia ancora garantiva questo, ma che vi potessero essere oltre alle aperture del Partito Comunista Italiano, è entrato nel governo prima Badoglio e poi Bonomi, ma soprattutto appunto il fatto che vi potessero essere delle relazioni particolari con l'Unione Sovietica, in dispettiva e in sospettiva, particolarmente Madrid. Questo è il concetto generale. Nel breve tempo trascorso da allora si sono verificati molti avvenimenti politico-militari di fondamentale importanza. Alcune situazioni si sono chiarite e la posizione dei vari altri stati neutrali di fronte alle due parti belligeranti si è andata determinando in modo sempre più chiaro e netto. Reputo pertanto che sia opportuno di tracciare a vostra eccellenza, in un quadro di insieme, quali ripercussioni tali avvenimenti abbiano avuto in questo Paese e i loro riflessi nelle relazioni italo-spagnole. Ci si trovava alla fine dello scorso inverno di fronte a una serie di strepitose vittorie russe sul fronte orientale, causa delle più gravi preoccupazioni per questo governo, la cui politica è imperniata sull'anticomunismo. E cioè, mentre da qualche mese, le operazioni militari in Italia subivano una battuta d'arresto. La propaganda tedesca, intensissima in questo Paese, sfruttava abilmente e in terreno fertile qualche dissenso fra anglo-americani e russi in determinati settori per far credere che la coalizione anti-tedesca finirebbe con lo sfasciarsi, mentre d'altra parte sottolineava il continuo perfezionarsi del Vallo Atlantico, considerato come baluardo insuperabile contro ogni invasione da oltremore. Sappiamo che questo è stato abbondantemente superato dagli eventi. La crisi nei rapporti fra Spagna e alleati, determinatesi verso la fine dello scorso anno ed agudizzata dall'embargo sul petrolio, si cita un rapporto di febbraio, si prolungava in modo allarmante. Tutto questo, insieme di fattori, si traduceva in un costante irrigidimento del governo spagnolo nei nostri riguardi, specie dopo il riallacciamento delle relazioni con l'URSS, che sia per l'importanza politica del gesto e sia, e specialmente per il timore di una nuova minaccia alla solidità di questo regime, non poteva essere accorto con piacere dal governo di Franco. Su questa situazione, tre principali avvenimenti di fondamentale importanza sono venuti ad annestarsi. Punto primo, l'avanzata alleata in Italia e la formazione del nuovo governo democratico italiano. Punto secondo, lo sbarco alleato in Normandia. Punto terzo, l'offensiva estiva russa. Vengono esplicitati i vari temi. Avanzata alleata in Italia. Non si può dire che il trionfo dell'offensiva intrapresa dalle forze armate alleate in Italia dopo la stasi di fronte a Cassino abbia molto sorpreso questa opinione pubblica e tantomeno queste sfere governative. Era noto che si andavano accumulando uomini e mezzi per l'avanzata e che tedeschi dal canto loro difficilmente avrebbero potuto far affluire sul fronte meridionale forti riserve di truppe di aviazione. Comunque la stampa, fedele come sempre alla consegna fino nazista, ha presentato la campagna italiana come l'inevitabile trionfo di chi godeva di una fortissima superiorità di mezzi sull'avversario, ha sempre tenuto a sottolineare il valore dimostrato dalle truppe tedesche e la formidabile capacità dei loro comandi, ha messo in luce come ogni evacuazione effettuata dalle forze armate del Reich non avvenisse altro che un'applicazione di piani prestabiliti. Ha voluto attribuire alla magnanimità di Hitler il fatto che a Roma sia stata risparmiata dalla distruzione, ha più o meno ignorato la partecipazione di unità italiane ai duri combattimenti, non mancando invece di esaltare lo spirito combattivo delle truppe francesi. Poi, quanta la formazione del primo governo democratico, essa ha dato luogo a molte congetture per quello che riguarda la nostra politica sia estera che interna. Sulla prima, specie per il futuro, si fanno molte speculazioni più o meno nebulose in quanto si ignora persino il punto di partenza, cioè se il nostro armistizio sia stata una vera e propria capitolazione, ovvero se condizioni vi siano state e quali. È stato notato che le manifestazioni del nostro governo, della stampa e della radio delle province liberate sono state costantemente ispirate a una certa fiducia nell'avvenire del paese. Si è perciò tratta l'impressione che l'Italia si consideri una posizione intermedia tra vinto e vincitore e che informi ogni suo atto all'intento di avvicinarsi alla figura di quest'ultimo. Non mi si può dar torto di fronte a questa interpretazione. Tale impressione fu avvalorata a suo tempo dalla questione esorta in seguito dall'annuncio della cessione di un terzo della nostra flotta all'URSS e d'altra parte dal riallacciamento delle relazioni con la Russia, seguito a breve distanza dall'invio in Italia di Sir Noel Charles e dell'ambasciatore Alexander Kirk, con la qualifica di alti commissari. Mentre si prevede un atteggiamento nell'insieme a noi amichevole da parte inglese e americana, vuoi perché un'Italia amica non può non essere considerata coefficiente interessante per l'impero britannico e per l'America, vuoi per i vecchi legami di amicizia che ci uniscono entrambi i paesi, ci si attende invece che con francesi, greci, jugoslavi ed albanesi avremo forti difficoltà da superare e se ne deduce che cercheremo di mantenere per vario tempo nei loro riguardi un atteggiamento quanto mai prudente e scevro di compromissioni, nella speranza che l'intensificazione della nostra partecipazione alla guerra di liberazione ci consenta in un domani più o meno prossimo di scindere la responsabilità dell'Italia libera da quella del regime fascista nei confronti degli stati aggrediti. Insomma, si considera che le speranze degli italiani si vogliano appuntire su una abile politica manovriera mirante ad infiltrarsi nel campo delle Nazioni Unite, a trasformare la cobeligeranza in una qualche forma di alleanza avvalendoci della duttilità dei nostri uomini politici, delle loro relazioni personali con i governanti stranieri, della formazione composita del gabinetto presieduto da vostra eccellenza, della approvazione che esso ha riscosso sia da parte angloamericana che da parte russa. Queste sono in breve le congetture che qui si fanno circa le nostre aspirazioni e i nostri programmi. Peraltro il pensiero e forse anche più i desideri di questi uomini di governo, o almeno in gran parte di essi, ha un carattere affatto diverso e ciò principalmente per due ordini di ragioni. Ragioni di ideologie e motivi di politica estera, basati sulle aspirazioni della Spagna ad occupare nel dopoguerra il posto più importante fra le potenze rivierasche del Mediterraneo. Si tratta di aspirazioni che trovano la loro origine nel desiderio del regime falangista di affermarsi internazionalmente anche per poter meglio giustificare la propria permanenza al potere, nella posizione geografica della Spagna all'imbocco del Mediterraneo, in una certa sfiducia nelle possibilità di effettiva ripresa della Francia nel prossimo futuro, nella fiorente situazione dell'economia spagnola che ha enormemente beneficiato della guerra mondiale, per risollevarsi dei gravi colpi infertili dalla guerra civile. Ne è da trascurare il fatto che gli aiuti forniti all'Italia durante la guerra civile ed ampiamente sbandierati dal regime fascista hanno ferito l'orgoglio di molti spagnoli. Nell'indirizzo attuale della nostra politica interna si è voluto vedere un salto nel vuoto, sfiducia questa che non è forse tanto sentita quanto piuttosto ostentata per motivi di politica interna spagnola. È ovvio infatti che l'estaurazione di un governo democratico in un paese eretto fino allo scorso anno da un regime dittatoriale allarmi per riflesso uomini di governo di uno stato in cui il regime è improntato, seppure con qualche ritocco, ai modelli fascista e nazista. Passiamo allo sbarco alleato in Normandia. Avrebbe dovuto teoricamente sollevare la Spagna dalla grave preoccupazione per la presenza delle forze armate del Reich lungo tutta la frontiera pirenaica, preoccupazione che in molti casi era servita a giustificare atteggiamenti assunti al governo spagnolo nel corso del presente conflitto. Il timore che in un futuro più o meno prossimo gli alleati chiedessero conto alla Spagna di come aveva favorito la Germania nel corso della guerra, aveva indotto Franco nel 1943 a scivolare lentamente dalla posizione di non belligerante assunta nel giugno del 1940 a quella di neutralità e nell'imminenza dello sbarco delle truppe alleate nell'Europa o continentale a venire sia pure parzialmente incontro alle richieste anglo-americane, concludendo l'accordo del 2 maggio 1944, sempre citato. Forse il Generalissimo sperava, mediante questa evoluzione di ottenere dagli anglo-americani, una specie di avallo del suo regime anche nel dopoguerra. E le amichevoli dichiarazioni del primo ministro Churchill, intese soprattutto a creare una atmosfera di distensione nell'imminenza dello sbarco sul continente, potevano magari anche venire localmente interpretate in tal senso. Ma successive manifestazioni della stampa e della radio anglosassoni e le stesse dichiarazioni fatte dal presidente Roosevelt alla fine di maggio erano di carattere tale da dissipare quel genere di illusioni. Quanto poi si aggiunga a ciò la vivace reazione tedesca dopo la conclusione dell'accordo ispano-alleato, non può addestare meraviglia il costatare che la situazione della Spagna si è rimasta invariata di fronte ai recenti avvenimenti e che lo sbarco in Normandia sia stato accolto quasi a denti stretti come si trattasse di una sgradevole ineluttabilità. Poi, a proposito dell'offensiva estiva russa, il governo di Franco, fermo nella sua politica dichiaratamente anticomunista, osserva con timore l'avanzata russa nella quale vede una crescente minaccia alla sua stessa esistenza e pertanto si aggrappa sempre più alla speranza di una difesa ad oltranza tedesca che non sembra essere giustificata dalla realtà. In sostanza, la posizione odierna appare la seguente. Dopo l'accordo del 2 maggio si è potuto notare un lieve passo indietro da parte spagnola nei riguardi degli alleati. Ciò deve attribuirsi più che a una incertezza di atteggiamento difficilmente spiegabile in un periodo in cui la vittoria finale delle Nazioni Unite si è andata delineando con chiarezza sempre maggiore al fatto che Franco forse crede di avere per il momento sufficientemente tutelato e garantito la Spagna nei confronti degli alleati e pensa pertanto di poter lasciare maggior libertà di azione, almeno per qualche tempo, agli esponenti germanofili della falange. E' infatti da tenere presente che il pieno controllo che il generalissimo ha del paese attraverso l'autorità da lui esercitata sulle forze armate, la falange e l'amministrazione nella quale i falangisti occupano molte posizioni chiave nonché attraverso la sua influenza sul clero è il frutto di un abile gioco di equilibrio in cui il capo dello Stato e del governo deve evitare ad ogni costo di provocare un eccessivo scontento nei vari ambienti sui quali egli appoggia la sua autorità se non vuole facilitare la manovra delle numerose correnti avverse. E così, mentre nella risoluzione della crisi con gli alleati, conchiusasi con l'accordo del 2 maggio, ha finito col prevalere la corrente moderatrice che fa capo al ministro degli affari esteri Conte Giordana, nel periodo immediatamente successivo era direi quasi fatale che i germanofili o transisti riprendessero un certo sopravvento. Per quanto tempo? Ciò dipenderà indubbiamente dagli avvenimenti internazionali e dello sviluppo delle operazioni militari sul continente. Si ha comunque l'impressione che Franco, nel tracciare la linea di condotta del suo governo nei confronti degli alleati, faccia un certo assegnamento anche su elementi imponderabili della situazione. E cioè che egli, influenzato anche dalla propaganda nazista, speri di poter esercitare la parte di mediatore in una ipotetica pace di compromesso che gli anglo-americani desiderassero concludere con la Germania, prima del suo crollo di fronte all'armate sovietiche. O che la Spagna possa diventare in un futuro relativamente prossimo un solito caposaldo per gli alleati nel caso di un altrettanto ipotetico dilagare delle forze armate russe verso l'Europa occidentale, in seguito allo schiacciamento della Germania. Capiamo bene anche attraverso queste pagine quale potrà essere la collocazione, sappiamo poi, in divenire nella Nato da parte della Spagna. Quindi, concludendo, l'atteggiamento attuale della Spagna, che non rappresenta se non una fase di una specie di oscillazione destinata a scemare gradualmente ove Franco e la falange possano sentirsi l'avvenire assicurato anche dopo la vittoria delle Nazioni Unite, non ha contribuito a migliorare la nostra difficile e delicata posizione in questo Paese. Posizione che può essere caratterizzata dagli aspetti negativi che qui di seguito riassumo. Punto primo, il comportamento delle autorità centrali o periferiche, falangiste o timorose delle eventuali reazioni alla falange ai loro danni nei riguardi dei reali uffici in Spagna, generalmente le richieste urtano contro difficoltà un tempo inusitate. Le questioni non trascinate per le lunghe e considerate una certa prevenzione. Due, rinvio ormai definitivo dell'applicazione del progetto di legge del 25 luglio 1943, connesso sostanzialmente, se non formalmente, con l'accordo di inizio relativo alla cessione di viroscaf italiana alla Spagna, tanto importante, che mediante il versamento anticipato da parte spagnola di alcune rate del debito di guerra avrebbe colmato il forte deficit esistente a nostro sfavore nel clearing italo-spagnolo. Punto terzo, versamento di un conto bloccato in lire delle somme dovute al reggio governo in relazione alle scadenze 31 dicembre 1943 e 30 giugno 1944 del debito di guerra. Misura questa da collegarsi evidentemente con la non espressa intenzione spagnola di concordare un diverso cambio tra lire e pesetas. Punto quarto, quesito posto dall'autorità spagnola e ciascuno dei naufraghi della reggia marina internati in Spagna per conoscere se preferivano rimpatriare nell'Italia liberata, ovvero ritornare nelle province sotto occupazione tedesca. Punto cinque, atteggiamento della stampa che è pienamente controllata la falange sotto la diretta influenza della propaganda germanica e a noi sordamente ostile. Svolgo in proposito un'azione continua e ho impartito le necessarie istruzioni ai reggi consoli affinché agiscano in parallelo presso l'autorità periferica nei riguardi della stampa locale. Ma si tratta di un'opera estremamente lenta nei suoi effetti. Come ho già avuto l'onore di riferire, lo stesso ministro degli affari esteri mi ha più di una volta confidenzialmente lasciato comprendere come, sia in questo che in altri campi, egli si trovi impotente di fronte ad iniziative e decisioni o più o meno inconsulte degli esponenti falangisti. Uno dei recenti esempi più significativi è stata la campagna di stampa per la pace immediata, che, iniziata quando fermeva la preparazione materiale e psicologico sbarco anglo-americano sul continente, ritardò per qualche tempo la conclusione dell'accordo ispano-alleato. Punto 6. Richiamo del reggio consoli in Catice, conte Folco Aloisi. Tale richiesta, specialmente come si tenga conto del momento in cui ha avuto luogo, appare chiaramente come una contropartita che queste autorità hanno ritenuto di dover offrire alla Germania per farle meglio tollerare la chiusura del suo consulato generale in Tangeri e l'espulsione di tanti suoi agenti dalla Spagna e dal Marocco. Punto 7. Rifiuto del gradimento al comandante Filiasi, quale reggio ha detto Navale, in Madrid. Anche in questo caso si tratta di un fatto sgradevole, ma meno forse di tanti altri, in quanto questa autorità avevano in varie occasioni dichiarato di non poter gradire la presenza di ufficiali che svolgevano precedentemente attività informativa. Non è da escludere che il rifiuto spagnolo sia anche dovuto a manovra tedesca. In conclusione, il governo spagnolo, pur continuando ancora ad essere spiritualmente favorevole alla Germania, cerca di crearsi un alibi ed avere i conti possibilmente in regola con le Nazioni Unite, ostentando oggi un atteggiamento neutrale che, se non è sentito negli ambienti del partito, vuole perlomeno essere formale. Comunque, la situazione è molto fluida e l'evoluzione della politica spagnola in generale non potrà non seguire, sia pure con ritardo, lo sviluppo degli avvenimenti internazionali e delle operazioni militari. Per quanto riguarda il nostro paese, ci troviamo in Spagna in una posizione delicata e difficile, ma non si deve, a mio avviso, trarne illazioni troppo pessimistiche e ciò sia perché la Spagna, come si è detto sopra, dovrà adeguarsi alla situazione che risulterà dagli sviluppi della guerra, sia perché l'atteggiamento del suo governo nei nostri confronti dovrà migliorare gradualmente anche in relazione alla normalizzazione della vita in Italia. Tale adeguatamente potrà essere facilitato in quanto si affermi l'influenza personale del Conte Giordana che, avendo, a differenza di altri uomini del governo e di qualche alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri, una vasta concezione di quali siano i veri interessi della Spagna, prospettati nel piano futuro di una Europa pacificata, ha colto varie occasioni per confermarmi, anche in questo periodo particolarmente travagliato, i suoi sentimenti di amicizia per il nostro paese. Allora, mi sembra che il quadro sia piuttosto chiaro. Chiaro nella nebulosità della situazione spagnola. Cioè, sostanzialmente, come ho anticipato, la Spagna vuole mettere un piede in due scarpe. Perché? Perché capisce che non fa comodo all'esistenza interna del regime rompere con i tedeschi, perché il regime si fonda sui strati più conservatori, anticomunisti, quali le Forze Armate, la Chiesa, diciamo la nobiltà, più che nobiltà, l'aristocrazia sociale. Dall'altra parte, ovviamente, capisce che la Germania è votata alla sconfitta e non può rimanere silente alle lusinghe, alle aspettative, alle speranze che offrono ovviamente gli alleati. Alleati occidentali, che ovviamente sono alleati anche con i sovietici. E che, visto che il peso dell'Unione Sovietica, nel corso del 44, già nel 43, ma maggior giorno nel 44, sta ottenendo sempre più vittorie, non solo politiche, ma anche militari, nell'Europa orientale, può diventare un elemento importante di mediazione. Quindi ecco come vi si trovi in un elemento di equilibrio, in cui appunto la Spagna deve saper capire, secondo il suo punto di vista, come riciclarsi bene e, in qualche modo, come riciclarsi bene per riuscire a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Che è un po' quello che cercheranno di fare anche i stessi tedeschi post 1945 in funzione antisovietica con gli anglo-americani. Quindi è come poi si vanno a riciclare molti di quelli che sarebbero dovuti calare da una corda nei vari tribunali, che invece sappiamo bene che o vengono fatti scappare o vengono un po' riciclati per le esigenze anticomuniste. Detto questo, come al solito invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!